Per quanto mi riguarda, ecco, non vedo l'ora di andare via e mi dispiace perché ho anche mia madre che vive lì e sono anche preoccupata per lei. La voce al telefono è quella di una residente di San Domenico. Vive in affitto temporaneamente di fronte a casa dell'Immacolata e nei giorni scorsi ha vissuto un episodio che la spaventata e turbata. È accaduto alle 4 di pomeriggio mentre rientrava a casa con la figlia. Sotto la tettoia dei citofoni c'erano due ragazzi. Un ragazzo, si capiva che arrivava dalla casa dell'Immacolata, è una ragazza. Purtroppo la prima cosa che vedo è che hanno dei superalcolici. Quindi io avendo la bambina, gli ho detto guardate per favore se potete andare via, cosa fate qui? Questa ragazza mi dice noi possiamo stare qui. Si è alzata in piedi e mi ha detto guarda ti conviene andare di sopra. E mi ha fatto capire, io avevo la bambina, ho subito aperto il cancello, ho detto guarda amore vai di sopra dalla nonna perché mi sono spaventata. Sono entrata dietro il cancello e ho chiamato il 112. Però lei ecco lì ha cominciato a insultarmi, insultarmi pesantemente. Mia figlia ha questo davanti a mia figlia che è rimasta abbastanza scossa. La sera ha continuato a ripetermi mamma cosa vuol dire, cosa ti hanno detto. Risse e schiamazzi, qualche bottiglia di alcolici trovata nei pressi della palazzina dove abita, non avevano mai sconvolto la signora. Ma all'ultimo episodio l'ha scioccata a tal punto da non vedere l'ora di andarsene. E meno male che erano in due, aspettavano gli altri. A questo punto loro poi sono scappati perché io ho detto a questo punto chiamerò qualcuno. Lei è scappata insultandomi, non scappata, ha cominciato a camminare insultandomi. Fare da padroni anche a casa mia mi ha lasciato un po' proprio... Ecco questo mi ha un po' terrorizzato ecco. Ho messo la macchina in garage perché ho detto questo adesso mi ha visto... Insomma non li nascondo che ho paura soprattutto anche per i bambini, due bambini. Sì, quindi...